Tutto questo perché il clima sta cambiando con le conseguenze che riguardano tutti noi. Parte dell'assunzione a questi grandi problemi è di tipo scientifico e tecnologico. Vuoi dare anche più di un tuo contenuto? Elsa e DASI propongono tanti programmi. Sì, è vero, è 5 minuti di lavoro. Grazie a tutti. Grazie, è fantastico sapervi laggiù. Io purtroppo non vi vedo ma sento il vostro calore. Un saluto affettuoso, un bel atto a bordo, a tutti quanti che stanno seguendo, da lì alla Città della Scienza, ma anche alle tante persone che sono collegate in streaming. E mi fa un fortissimo piacere avere oggi questo dialogo con voi.